Bentornati a Pillole Astronomiche. Durante le serate pubbliche con il telescopio, oltre che ad osservare delle stelle, è possibile che si possano vedere anche dei pianeti. Una delle cose che facciamo notare è che, mentre le stelle sbrilluccicano, cioè la loro luminosità sembra variare costantemente, quella dei pianeti invece resta fissa, immobile. Il motivo di questo effetto è dato dall'atmosfera terrestre, l'aria che ci circonda, che non è ferma ma è in costante movimento. Entrambi questi corpi celesti sono ovviamente fuori dalla turbulente atmosfera, ma l'effetto sulla loro luce è diverso. Le stelle che osserviamo in cielo sono molto grandi, ma sono anche molto lontane da noi. Di conseguenza, se osservate sia occhio nudo che con il telescopio, appaiono comunque sempre solo come dei piccoli puntini. Se con la punta della mia bacchetta simula la turbolenza data dall'atmosfera, notiamo che la luce puntiforme di una stella viene molto disturbata da questo effetto. I pianeti del nostro sistema solare invece sono molto più piccoli delle stelle che vediamo, ma sono estremamente più vicini, quindi la loro dimensione in apparenza è maggiore. Di conseguenza, il disturbo dato dall'atmosfera sarà ridotto, dandoci quindi un'immagine più stabile.